Gli ebrei devono indossare una stella di David, devono consegnare alle loro biciclette, non possono prendere il tram, non possono guidare la macchina, devono frequentare scuole per ebrei e via dicendo. Mi sento male a stare in un letto caldo, mentre i miei amici più cari sono là fuori da qualche parte, gettati o caduti al suolo, e questo solo perché sono ebrei. Grazie a tutti. Chi non scrive non può sapere quanto sia bello, e se non dovessi avere abbastanza talento per scrivere un libro o per un giornale, beh, allora continuerò a farlo solo per me stessa. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.